Sapete, per Eni è importante stare sempre più vicino agli italiani e oggi lo fa con questa iniziativa straordinaria Riparti con Eni Dalle ore 13 di sabato alle 7 di lunedì mattina in tutte le Eni Station aderenti e in modalità hyper self hai carburante di qualità a un prezzo imperdibile e uguale dappertutto Un po' come dare un passaggio agli italiani Se non partiamo così, ma quando ripartiamo? A Catanzaro, nel centro storico, in via Turco 79, impianto ACIP Eni Il Latina Calcio ha mosso i suoi primi passi nel 1932 quando ancora però i primi club del calcio italiano si stavano affermando La prima vera squadra del Latina venne costruita nel periodo post bellico e nella fattispecie nel 1945 quando fu fondata la Virtus Latina poi denominata la Pontina Latina Da quel momento diversi campionati dilettantistici fino alla prima promozione in terza serie nella stagione 68-69 Nel 1973-74 a vestire la maglia del Latina è un certo Alessandro Spillo Altobelli che quell'anno in Serie C segnò ben sette reti Il Brescia lo notò e lo acquistò per 60 milioni di lire Negli anni 80 la società Pontina si fossilizzerà nel campionato di Serie C2 Tra gli anni 90 e il 2000 il Latina fa la spola fra la Serie C e la D fino al completo fallimento fra il 2006 e il 2007 Poi la rinascita con la fondazione del Football Club Latina e successivamente nel 2009 dell'Unione Sportiva Latina Proprio in quell'anno inizia la scalata che porterà il club nero-azzurro dall'eccellenza laziale alla prima divisione Lo scorso anno con Mr. Sanderra in panchina i Pontini disputano un campionato in bassa classifica In prima divisione si salvano battendo la Triestina nella gara doppia dei play-out Proprio le immagini in onda si riferiscono alla gara interna negli spareggi per rimanere in prima divisione Al termine della stagione il presidente Michele Condò decide di abbandonare la guida del club per motivi di salute Il vicepresidente Pasquale Maietta prende in mano le redini della società Pontina assieme all'altro socio Fabrizio Colletti oltre ad una cordata di imprenditori composta da Italo Rizzato, Gianfranco Zampieri e Massimo Pulcinelli Ora nuova stagione e nuova squadra a partire dal tecnico che quest'anno è Fabio Pecchia ex Gubbio Poche le conferme rispetto alla passata stagione nel parco giocatori Gli unici a rimanere sono stati il difensore Agius i centrocampisti Andrea Giacomini e Salvatore Burrai oltre agli attaccanti Agaudirin Pagliaroli, Alessandro Tulli e il brasiliano Jefferson Per rinforzare l'organico sono approdati in erazzurro il portiere ex Crotone Bindi gli esperti difensori De Giose e Cottafava e il centrocampista ex Ternare Taranto Maximiliano Serras Nella prima di campionato il Latina ha perso contro il Pisa una delle squadre assieme al Catanzaro di Cicciocozza che ha più convinto all'esordio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti